segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te credo di avere già detto ne abbiamo già parlato della posizione di sul cedere qualcosa per avere qualcosa ed è assolutamente indispensabile che sia così nello stesso tempo è giusto e naturale che lo dica una terza parte e non una delle due perché non sono in condizione né l'una né l'altra di stabilire anche la minima condizione su cui porre un impegno per cominciare questo tipo di incontro quindi come al solito kissinger vede giusto e vede e vede e capisce che la situazione comunque non può durare all'infinito e deve in un punto finire e bisogna impedire che qualche blizzo sorpresa o qualcosa che non si prevede possa far svoltare questa terribile guerra in qualche cosa di peggio quindi la posizione di kissinger è assolutamente quella di uno stratega intelligente che ha visto il punto e che lo raccomanda sapendo che lui lo può fare perché è strano a ciascuna delle due parti nel senso che rappresenta gli stati uniti in questo momento mentre parla quindi non è l'america contro la russia ma è un gran è un mediatore professionale un grande mediatore di conflitti professionale il quale esprime un'indicazione e questa indicazione tuttora ad un esame critico delle cose così come stanno che appare attendibile appare attendibile